È cominciato il Ramadan, il mese sagro dell'Islam, senza una tregua. Si continua a negoziare, per un breve forse c'è stato il fuoco, ma le prospettive sono molto cupe. Che scenario intravede lei? È molto complicato, perché purtroppo Israele non vuole rinunciare a un attacco durissimo nella striscia di Gaza e non si pone sufficiente rispetto nei confronti della popolazione civile che è una vittima di questa guerra provocata da Hamas, certamente come sono vittime i civili israeliani che sono ancora ostaggi nelle mani dei terroristi. Però i civili israeliani, le decine di migliaia di morti palestinesi, non hanno nulla a che vedere con questa guerra. sono vittime innocenti. Ma dobbiamo pensare che la reazione israeliana sia sproporzionata? Quando ci sono tanti morti che non sono combattenti, certamente significa che si è andati al di là di un modello di reazione proporzionata. Io mi auguro che Israele comprenda questo, lo abbiamo detto in tutti i modi, parlando da amici di Israele, perché noi siamo amici di Israele, siamo amici del popolo ebraico, rivendichiamo il diritto di Israele a vivere in sicurezza. Siamo per la strategia dei due popoli, due stati, che è l'unica che può portare pace. E ora bisogna che tutti quanti, anche Hamas, deve cambiare atteggiamento per quanto riguarda gli ostaggi che devono essere liberati immediatamente. Israele deve ridurre la propria reazione puntando soltanto sugli obiettivi militari e cercando di escludere il più possibile la popolazione civile da questi attacchi. Perché è una popolazione che soffre, l'Italia sta facendo tutto per aiutare questa popolazione. Ecco, lei ha lanciato...